E' iniziato tutto con una mia iniziativa appoggiata dal professor Arillotta per quanto riguarda delle foto storiche che sono delle foto riguardanti la guerra d'Africa e la guerra d'Abessini che io ho degli albumi fotografici con una vasta varietà di fotografie fatte e scattate da un colonnello Stefano Romeo e dal maresciallo Filippo Azzarello durante il secondo conflitto mondiale e abbiamo fatto questa iniziativa assieme all'Unici, visto che si parla di donne indivisa per accostare la donna di ieri come era e la donna di oggi come è.